Allinamento che gradualmente va a prendere forma, si ritrae il numero 7 Roy PDL, parte Piano il numero 2, Ravel B, stacco della macchina con Ritornello Koff che dall'esterno supera Regina Gioiosa, poi Rombola che prova a parcheggiare l'errore di Regina Gioiosa all'imbocco della prima curva, 13.9 il lancio violento da parte di Ritornello Koff che affronta in avvantaggio la prima curva nei confronti di Rapsodi DVM che precede Rombola, la quale agisce per corsie esterne così come Ravel Bigi e Radames Bigi dopo 400 metri in 29.4. Davanti alle tribune guida Ritornello Koff nei confronti di Rombola che sopravanza Rapsodi DVM, poi Rocco D'Adelfia viene via in terza corsia Ravel B dopo 600 metri in 44.8 e Ravel B non perde tempo, sopravanza Ravel Bigi avvicina a Rombola mentre sbaglia nelle retrovie anche Roviano Bit. Si va sulla seconda curva in vantaggio Ritornello Koff, l'errore di Ravel B al mezzo miglio in poco più di 1.1. Rombola a mezza via tra il leader Rapsodi DVM e poi Ravel Bigi mette la testa in terza corsia Rondinaia lunga anticipata da Radames Bigi al chilometro iniziale trottato in 1.17. A lunga Ritornello viene via Rondinaia, in mezzo c'è Rombola che viene scufiata, poi Radames Bigi. Ritornello che organizza la difesa, Rondinaia sul passo, Rombola con coraggio e terza, in 1.2, in 1.31 e mezzo chiusi con un paletto in 14.4, Ritornello Koff contro Rondinaia lunga, Ritornello che prende 3 quarti lunghezza all'avversaria, poi Rombola e Radames Bigi si entra in retta d'arrivo con Ritornello Koff in evidenza, la tonda su Rondinaia che si ripropone con generosità per Buchi va Rombola, poi Rock Serra d'Oro e Radames Bigi, Ritornello Koff e la serata di Giovanni Petraroli, buona seconda Rondinaia lunga, mentre al terzo posto Rombola si salva da Radames Bigi e Rock Serra d'Oro, 34 gli ultimi 4, 2-2 il totale, 1.16.2, la media al chilometro, Giovanni Petraroli è allo show della serata, 3 successi, per lui vince anche con Ritornello Koff in un preciso cost to cost, al secondo posto termina Rondinaia lunga, al terzo di dentro ancora Rombola, 6-10-4 l'arrivo della settima.